Troviamo il Giappone con Kinyo Questo tour è iniziato con una passeggiata per goderci gli stivali gialli dove sentiamo la primavera Poi ho visitato la fattoria Wasabi Ti piace il Wasabi? Ho fatto una foto con il Wasabi sul tubo Il servizio morbido di Mere era delizioso Puoi vedere lo splendido scenario montuoso della regione di Chubu La persona davanti ai barili non sono io Sono di fronte alla sala Kagura Questa è la sala di culto del santuario di Hodaka Questa volta mia sorella gemella è venuta con me per la prima volta Ci sono alberi di Zerkova di oltre 500 anni qui La corda e la carta rappresentano l'albero sacro Shikiama Shimenawa cide in giapponese ed è usato anche nei luoghi sacri Questa è l'avventura del santuario Siamo venute al castello di Matsumoto Un ninja ci ha accorto E c'era anche la principessa giapponese Per vedere la vista del castello salì parecchie scale Su Nakamachidori puoi vivere le vecchie strade Belle montagne innevate era un tour di marzo Ciao Ciao